Ancora nessuna traccia dei malviventi che nella notte tra giovedì e venerdì scorsi hanno rapinato Massimo Iacucci, un imprenditore di 58 anni che è stato svegliato di soprassalto da alcuni rumori che provenivano da una stanza adibita d'ufficio. Erano le 2.45 quando tre banditi col volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione nella sua abitazione a Cucurano di Fano, intimando l'uomo con una pistola e la torcia puntata in faccia di non opporre resistenza e di consegnargli tutti gli oggetti di valore tenuti in casa. Nonostante gli attimi di paura vissuti dal 58enne è riuscito a mantenere la calma e con estrema lucidità ha consegnato i soldi e i gioielli custoditi in cassaforte. Ora proseguono le indagini dei carabinieri di Fano per cercare i responsabili ma sono pochi gli elementi investigativi a disposizione dei militari. Le uniche tracce, come spiega il comandante Falcucci, sono l'Opel Corsa robata a Cucurano il giorno prima e fermata per un controllo al casello della 14 intorno alle 3.40, ma all'alta della polizia i tre occupanti si sono dati alla fuga dileguandosi nei campi, nell'abitacolo, poi sono stati ritrovati arnesi da scasso ed una collanina, non riconosciuta però da Massimo Iacucci. Stiamo seguendo tutte le ipotesi, ha confermato il capitano, ma non crediamo che queste persone possano essere le stesse che hanno rapinato l'imprenditore, perché di solito i malviventi non scappano un'ora dopo quando ormai la città è piena di posti di blocco delle forze dell'ordine, che per di più in questi casi collaborano in modo congiunto. I tre banditi potrebbero invece aver utilizzato una Rover 75 rubata poco prima in via del ponte, ma la denuncia di furto è stata presentata solo dopo diverse ore e questo ritardo non ha permesso di fare ricerche tempestive subito dopo la rapina. Inoltre, dalla testimonianza della vittima, risulta che i tre banditi avessero sui 33 o 35 anni, che fossero alti circa 1,70 m, e che uno avesse un accento anconetano mentre un altro nordafricano. Il terzo invece pare non avesse parlato. Sull'argomento oggi è intervenuto anche Alessandro Sandroni, di Fratelli d'Italia, Allianza Nazionale, che ha ricordato come il partito lo avesse annunciato a gran voce già un anno fa del bisogno di maggior sicurezza e controllo. Purtroppo però ad oggi non c'è stata nessuna risposta da parte di questa amministrazione, lamenta Sandroni. Evidentemente erano più impegnati nelle vicende interne per candidature alle regionali prima e posti e ruoli interni al comune poi. D'altra parte invece il sindaco Massimo Seri assicura che stanno lavorando su questo tema, tant'è che ci sono stati diversi incontri e confronti, sia col prefetto Luigi Pizzi che con le forze dell'ordine locali. Ogni anno, in base alle disponibilità economiche, verranno installate le telecamere in posti diversi della città, ribadito Seri, ricordando le quattro posizionate di recente alla stazione ferroviaria di Fano e perfettamente funzionanti.